Ciao ragazzi, allora, vi dico sin da subito che ho fatto un casino, quindi non giudicatemi perché lo so che ho fatto un casino Ho fatto cadere il Natale, voi direte, sì vabbè, come hai fatto a farlo cadere, ma, cioè, non ho fatto apposta, eh, m'è caduto, non è E quindi, non lo so, adesso vi faccio vedere che è successo perché mi sembra veramente un casino Allora, innanzitutto, a parte che lagga tantissimo, lo vedete da soli, insomma, va tutto a scatti, è proprio orribile così Ma forse questa è la cosa peggiore, cioè, guardate, guardate Cioè, lo vedete? Cioè, sta glicciando, mi sta glicciando l'albero di Natale Che poi, vabbè, questa non è la cosa peggiore perché adesso vi faccio vedere quella più bella di tutte, in assoluto, siete pronti perché questa veramente Dan, eh? Voi spiegatemi questa cosa Non so che dirvi, ragazzi, infatti ho fatto questo video apposta per chiedervi aiuto, insomma, se per caso voi sapete darmi dei consigli O ditemi voi, magari qualcuno me lo può aggiustare Un tecnico, non lo so Boh, vabbè, ragazzi, buon Natale, grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti